E ora vi presentiamo uno splendido progetto di riqualificazione sociale che vede coinvolta la zona di Bagnoli dove da poco tempo al posto di una pista di pattinaggio bruciata e abbandonata da circa 30 anni è nato un meraviglioso campo di basket che porta tra l'altro un bellissimo murale dell'artista Yorit. Un progetto sociale che parte dal basso per ridare speranza e vitalità ad una zona troppo dimenticata dalle istituzioni in questi ultimi anni. E a presentarci questo fantastico progetto abbiamo con noi Sergio Lomasso, un giovane professionista napoletano, un bagnolese d'occa. Buongiorno, grazie per essere qui con noi Sergio. Dunque la bellezza consiste proprio in questo luogo perché da una pista di pattinaggio purtroppo ai noi bruciata da circa 30 anni prende vita e nasce un campetto di basket che diventa simbolo e sinonimo di rinascita, di ripartenza. Qual è stata la volontà, la molla che ha fatto scattare in te questa voglia di recupero di un luogo purtroppo dimenticato da anni e probabilmente anche dalle istituzioni? Grazie innanzitutto per l'opportunità. Come hai detto sono un bagnolese d'occa quindi ho frequentato lì le scuole e ricordo benissimo che al liceo, nell'Abbriola, nella storica sede di Via Cerbone, mi ritrovavo a passare sempre innanzi a questo rettangolo che era bruciato già all'epoca, anche se non degradato così come negli ultimi anni prima della riqualificazione e mi piangeva il cuore vedere quella zona, quella parte di Bagnoli in quelle condizioni. Ecco che mi dicevo qualcosa bisognerà pur farla e appena ho avuto la possibilità, tra l'altro ci troviamo nel cuore di Bagnoli, nel cuore pulsante di questo quartiere, nel Viale Campi Flegrei, dove al quale Viale Edoardo Bennato ha dedicato anche delle canzoni, il suo marchio il 55 del Viale Campi Flegrei, a ridosso tra Metropolitana e Comana, appena ho avuto la possibilità, ho pensato appunto di ridare vita a questo luogo. Dare vita non è stato semplice Sergio, anzi ricordiamo anche al pubblico le difficoltà che è dovuto affrontare, le difficoltà che è dovuto superare e che ci rimano indietro nel tempo addirittura al 2017. Che cosa è successo in tutto questo arco temporale? Come sei arrivato al campo attuale? Dopo diverse ricerche e visure siamo riusciti a comprendere di chi fosse la proprietà di questo campetto, era di alcuni privati che ormai lo avevano abbandonato a se stessi. Dopo appunto averlo per forza di cose acquistato abbiamo pensato di poter dare un nuovo volto, un nuovo volto che immaginavo appunto meritasse il quartiere. Cosa è accaduto? Abbiamo iniziato piccole opere di manutenzione per dargli vita ma veniva il campetto continuamente sempre vandalizzato. Ad un certo punto ho pensato fosse il caso di lasciare tutto in stand by e potergli dare vita nuovamente quando ci sarebbero state le condizioni. È chiaro che un luogo di degrado richiamava degrado, quindi qualsiasi cosa mettessi che non fosse poi definitivo o in work in progress veniva vandalizzato. La rinascita del quartiere prevede la volontà di riscatto dai cittadini stessi della zona, un progetto ricordiamo che per l'appunto parte dal basso e il quartiere ha immediatamente risposto sì a questa tua volontà. Sì, una volta che il progetto era stato impiantato e anche pubblicizzato ha richiamato la curiosità dei tanti e soprattutto di quel volto per bene del quartiere, quel volto degli abitanti veramente che... Che tiene il proprio territorio, che tiene le proprie radici e non bisogna mollare. Non bisogna mollare perché poi subito dopo la realizzazione di questo campo da basket e purtroppo c'è stata la presenza di atti vandalici. Quindi il campo subito dopo ha subito delle vandalizzazioni e lì neanche ha deciso di fermarti. Ma anzi, hai recuperato il tutto e hai convolto anche l'artista Iorita affinché il messaggio fosse magari più impattante. Esatto, mi inorgoglisce pensare che faccia parte di quella generazione di bagnolesi, di napoletani che vuole essere proprio per la propria generazione ribelle e rivoluzionaria che creda che dall'arte e dallo sport possa nascere qualcosa di buono per sé e per gli altri e soprattutto che l'arte e lo sport possano, anche contro la criminalità organizzata, fare molto più che la repressione. Ma soprattutto che possa essere di esempio perché Napoli ha tantissimi campetti bruciati. Ricordiamo che questo progetto di riqualificazione l'hai voluto tu e è stato realizzato totalmente a tue spese. Questo è importante proprio come simbolo di lotta al degrado. Tanti campetti bruciati anche a Napoli, quanto è importante fare sinergia fra pubblico e privato per restituire dignità a dei luoghi martoriati ingiustamente? Allora, la sinergia è fondamentale. Ecco, pensare al campetto, oltre alla forte volontà mia, sicuramente mi ha supportato tanto anche mia moglie, lo sguardo di mio figlio e di tanti ragazzi di Bagnoli, ma c'è stata anche tanta opera da parte delle associazioni. Abbiamo fatto rete con associazioni sportive, immagino la St. Louis Academy, che è un'associazione di ballo del territorio, ma i charlatans sono famosissimi in tutta Napoli per regalare appunto canestri ai quartieri. Mi rendo conto che solo il pubblico non riesce, ma la sinergia deve essere fondamentale. Non possiamo lasciare che il privato faccia da solo, ma assieme al privato il pubblico può fare tanto. Fare tanto, tra l'altro è quello che hai menzionato tu, i giovani, perché in realtà luoghi riqualificati proprio per fare in modo che gli stessi possano essere luogo di incontro, di aggregazione e di gioco per i giovani. In tal contesto decidi di non fermarti, riqualifichi questo luogo, questo campetto di basket, ma hai in programma tante attività da svolgere per il prossimo futuro, proprio sul campetto, che vede protagonista il campetto. Assolutamente, proprio in questi giorni c'è stata una chiusura del campetto perché vogliamo dare una sorta di restyling anche progettuale e stiamo immaginando un calendario primavera-estate di attività che possono essere di spettacolo, possono portare anche degli attori, dei cantanti, quindi attività di spettacolo e anche attività di sport. Immagino il ritorno appunto dei giochi della gioventù tra i quartieri, nel quartiere stesso. Cioè veramente volere che lo sport, che tra l'altro in un momento pandemico del genere resta ai margini ancora, che lo sport e l'arte possano dare la speranza a un qualcosa di diverso. Un vero e proprio rilancio sociale e culturale di territori che ricevono nuovamente dignità, ma soprattutto ricevono manutenzione e cura e restano uno dei luoghi più belli per chi vi abita, ma anche per chi ha la possibilità poi di avvicinarsi agli stessi. Intanto grazie a Sergio Lomasto per averci presentato questo progetto che appunto ti ha visto protagonista in prima persona e quindi i nostri più sinceri complimenti. Buon lavoro. Piccolissimo break, restate con noi. Grazie a tutti.